Sono orato di rappresentare l'azienda in questo importante evento e voglio sottolineare il fatto che l'azienda da oltre 60 anni ha focalizzato la sua produzione, la sua immagine, la sua distribuzione focalizzandosi sulla tecnologia, dalle valore aggiunto alla clientela. Abbiamo oltre 10.000 macchine installate a livello mondiale è un'azienda che ha fatto della tecnologia, del capitale mano di tutto quello che rappresenta la human resource e la propria ricchezza. È un'azienda che comunque negli ultimi anni ha fatto un grosso passaggio a livello manageriale, c'è stato un approccio molto disruptive a livello di top management e siamo riusciti negli ultimi tre anni a raggiungere obiettivi ambiziosi che anticipano il piano di crescita industriale di ben due anni. Abbiamo una visione molto chiara sul 2022-2024 con un piano di crescita molto ambizioso che siamo molto fiduciosi di poter raggiungere. La disrushione organizzativa non è negazione, non è fattore di rottura bensì lavorare partendo dai presupposti, dai forti capisaldi, dalle fondamenta di quella che negli ultimi quasi 60 anni d'azienda sono stati i fattori principali di crescita e puntare a un'innovazione sia sul prodotto che sullo sviluppo delle risorse interne. Le risorse umane, il capitale umano è la cosa più importante, la tecnologia è un fattore trainante ma l'uomo, la competenza, la serietà, l'affezione all'azienda, la brand awareness, il considerare l'azienda come una seconda famiglia credo siano i capisaldi per poter raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati.